8 marzo, festa della donna, la polizia di Stato con le donne, un convegno organizzato al centro culturale Michele Abate di Caltanissetta. Cosa rappresenta quindi questa giornata, quale messaggio volete lanciare le forze dell'ordine alle donne in genere? Sì, oggi è l'8 marzo, è stato organizzato dalla polizia di Stato questo convegno dal tema la polizia di Stato con le donne, proprio al fine di sensibilizzare la collettività sul ruolo delle donne in polizia e proprio sull'impegno della nostra amministrazione nella tutela dell'universo femminile. Possiamo vedere alle nostre spalle immagini di donne che hanno subito violenza? Sono le 15 foto che sono state realizzate da un poliziotto, appunto da un collega, Domenico Fiandaca, nell'ambito proprio di una mostra fotografica che è stata realizzata sul tema della violenza di genere. Oggi purtroppo sono sempre di più le notizie di femminicidi o di violenze sulle donne. Un consiglio che vuole dare appunto alle donne che subiscono e magari stanno in silenzio? Ecco, di uscire dal silenzio. Noi nella locandina abbiamo messo proprio insieme, possiamo prendere a pugni il silenzio, perché non è vero che tutto quello che non si dice non esiste. In realtà esiste, bisogna tirarlo fuori, bisogna denunciare. E solo così, ecco, si può salvare una vita e si può dare la speranza alla donna di avere una vita migliore. La Polizia di Stato, in occasione della ricorrenza della giornata internazionale per le donne, ha voluto organizzare questo convegno per richiamare intanto l'attenzione di tutto e di tutta la cittadinanza, ma soprattutto dei ragazzi, perché è un'iniziativa di prossimità sull'importanza dell'universo femminile e sul ruolo dell'universo femminile all'interno della Polizia di Stato ma della società in generale. In secondo luogo, per richiamare l'attenzione su questo purtroppo terribile fenomeno della violenza di genere, della violenza nei confronti delle donne, che non è soltanto nei casi più gravi del femminicidio, ma anche tutta una serie di maltrattamenti, percorsi o comunque reati commessi, per lo più purtroppo in ambito familiare. Quindi una sensibilizzazione generale ai ragazzi affinché capiscano qual è l'importanza di questo ambito e si atteggino di conseguenze. In questura attualmente ci sono denunce di maltrattamenti in famiglia, le donne vengono oppure no? Sì, negli ultimi anni ha aumentato molto l'attenzione anche e soprattutto delle vittime, ma anche grazie all'ausilio e all'attività di centri antiviolenza, con cui abbiamo una stretta attività di cooperazione. Quindi questo fenomeno, che purtroppo era poco attenzionato, sta via via emergendo, c'è molta più sensibilità. Colgo l'occasione per dire che l'impegno della Procura della Repubblica di Caltanissette è ovviamente massimo. Proprio ieri abbiamo siglato, unitamente alla Procura per i minorenni, io e la dottoressa Vaccaro, il protocollo che ha ad oggetto proprio delle prassi virtuose nell'affrontare al meglio in tempi rapidi e cercando di raggiungere il più possibile risultati nelle tematiche della violenza alle donne e chiaramente alla tutela dei minori vittime a loro volta di abusi. Questo credo che sia uno dei segnali più tangibili dell'impegno di tutto il distretto giudiziario di Caltanissette nell'affrontare questo tipo di tematiche. Purtroppo però noi possiamo fare fino a un certo punto, nel senso che la violenza alle donne è frutto da un lato di problemi psicologici e psichiatrici normalmente dell'uomo che realizza certi tipi di condotte perché sicuramente una persona di equilibrio, una persona normale non scatena violenza che può portare addirittura alla morte. Quindi bisognerebbe prestare particolare attenzione ai campanelli d'allarme di carattere psichiatrico e psicologico e che a volte ci sono dei segnali che vengono trascurati. Dall'altra bisognerebbe avanzare a livello culturale, nel senso che la donna rappresentata come oggetto e non come soggetto porta l'uomo che la considera tale nel momento in cui la donna gli dice un no a qualsiasi livello, a qualsiasi ambito a dire questo oggetto, fra virgolette, mi dice no, quindi io la massacro. Quindi a livello culturale agire fin da quando sono piccoli, quindi fin dalle scuole, al rispetto per la donna, al rispetto per la compagna, al rispetto per la bambina, al rispetto per gli altri, uniti a un serio controllo delle situazioni borderline di carattere psicologico potrebbe portare davvero ad affrontare e a risolvere in via definitiva il problema della violenza alle donne e soprattutto del femminicidio. Nel senso che se non si attivano tutti questi meccanismi, l'impegno massimo del distretto giudiziario, delle forze di polizia che ci collaborano sempre, delle strutture assistenziali, diventa vano se non attiviamo meccanismi di carattere globale e complessivo.